allora questo è il laghetto del parco di che si chiama crediamo parco adriano e hanno fatto un'installazione la possiamo chiamare così è un'installazione piccola di una pinna di un di uno squalo aspetta che vedo se riesco a farvela vedere si prende ok questo è la pinna è la pinna del dello squalo che hanno fatto come piccola installazione in questo in questo parco ok di nuovo la panoramica ea più tardi